Gli agenti della squadra anticrimine del commissariato di polizia di Città di Castello, assieme al comando della Polizia Municipale di San Giustino, ha proceduto al recupero e al sequestro di una decina di piante di hashish perfettamente occultate in località Bagnaia di San Giustino. Le piante, in ottimo grado di maturazione e dal principio attivo molto elevato, sono state piantate nei pressi di un canale di scolo della sovrastante diga, così da permettere il giusto grado di umidità per la crescita delle piante. I servizi di prevenzione, in collaborazione con la Polizia Municipale, sono scattati alla luce delle segnalazioni che sono giunte da alcuni cittadini, testimoni di un anomalo afflusso di ragazzi nella medesima località. Attualmente sono in atto gli accertamenti per risalire agli autori materiali della piantagione.